Trasmettiamo i programmi dell'accesso regionale a cura del Corecomo Piemonte. Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con il Corecomo Piemonte. Io sono Alessia Caserio, vicepresidente Corecomo e come sempre sono in compagnia del commissario Marco Breamonte. Come forse già sapete in capo al Corecomo vi sono delle funzioni proprie e delle funzioni delegate. Tra queste ultime vi è la tenuta del registro degli operatori di comunicazione e postali. Si tratta di un'attività delegata per il territorio piemontese ovviamente volta a verificare i requisiti per l'iscrizione o viceversa la cancellazione dal registro delle imprese che operano nel settore della comunicazione. Il registro in sostanza rappresenta una sorta di anagrafe per queste imprese volto a garantire la trasparenza e la pubblicità degli assetti proprietari, a consentire l'applicazione delle norme sull'anticoncentrazione, a garantire il pluralismo informativo e il rispetto dei limiti previsti per la partecipazione delle società estere. I soggetti obbligati a iscriversi a questo registro sono molteplici. Si va per esempio dagli operatori di rete ai fornitori di servizi di media audiovisivi e radiovisivi. Si passa attraverso le società concessionarie di pubblicità sia sul web che sulle altre piattaforme digitali, alle agenzie di stampa e poi ancora per esempio anche gli editori di giornali e gli operatori economici che offrono i servizi di call center. Quindi una categoria veramente molto ampia a cui recentemente si sono aggiunti anche gli operatori dei servizi postali, compresi coloro che svolgono attività di consegna dei pacchi. Questo perché Agicom circa un anno fa ha introdotto anche per questi soggetti l'obbligo di iscrizione al registro. Per questa ragione è stato anche predisposto un modello nuovo e adottato proprio soltanto per gli operatori dei servizi postali con il quale comunicano le informazioni non soltanto quelle generiche bensì anche quelle più specifiche proprie di quel settore e mi riferisco agli estremi del titolo abilitativo ottenuto dal Ministero competente, nonché l'eventuale partecipazione a gruppi o network di imprese e infine naturalmente i servizi che loro offrono in base al titolo posseduto. Con questo ho concluso, vi ringrazio per l'attenzione, vi saluto e lascio la parola al collega Bria Monte. Ben ritrovati, anche in questa occasione mi piace fare un richiamo ad una materia molto rilevante di cui si occupa il Corecom che è quello del cyberbullismo, o meglio della prevenzione del contrasto al cyberbullismo. Perché mi piace tornare sull'argomento? Perché è di grossa attualità, tant'è vero che è appena entrata in vigore una nuova normativa, la legge numero 70 del 24, che va a integrare la legge 71 del 2017 e sostanzialmente accorpa la disciplina di, da un lato contrasto, dall'altro tutela, dall'altro prevenzione, sia del bullismo sia del cyberbullismo a livello nazionale. Perché è fondamentale questa nuova legge? Perché innanzitutto è stato attualizzato quello che già era stato applicato nel 2017, ma soprattutto viene ora integrata un'unica disciplina per questi fenomeni che sostanzialmente hanno la stessa base. Quali sono le novità fondamentali che tra l'altro sono appena entrate in vigore? Molte di queste norme, di questa nuova legge, sono entrate in vigore il 14 giugno del 2024. Innanzitutto c'è finalmente una definizione unica del fenomeno, il che è già fondamentale per riuscire a inquadrare il fenomeno stesso. In secondo luogo c'è un coinvolgimento ancora più ampio dei docenti, tant'è vero che ogni singolo istituto dovrà dotare il proprio regolamento di norme specifiche che riguardano una sorta di protocollo di azione per ogni situazione in cui si verifichi un caso di bullismo o di cyberbullismo. E inoltre un nuovo e maggiore coinvolgimento anche dei genitori, argomento questo che è stato richiesto espressamente dagli studenti, dai ragazzi, dagli alunni, ma anche da quelli già in più tenera età, che hanno chiesto proprio che i propri parenti, i propri genitori, i propri nonni, i propri zii, siano comunque le persone che sono loro vicine, siano coinvolte in questo argomento che loro ritengono fondamentale. Ed è per questo che torneremo sempre più spesso anche su questo argomento. Vi ringrazio ancora per l'attenzione, vi saluto e alla prossima occasione. Buongiorno, sono in compagnia di Patrizia Massocco, presidente dell'Associazione Agenda, buongiorno, e del vicepresidente sempre dell'Associazione Agenda, Salvatore Aldo Scebba. Parliamo pronto di Agenda. Agenda è un'associazione di genitori con figli con disabilità che opera nel territorio provinciale di Biella. Abbiamo intitolato questo spazio Un Amico per Volare. La mission di questa associazione prevede il miglioramento della qualità di vita e del benessere delle persone con disabilità e naturalmente anche delle loro famiglie. Ma nello specifico, presidente Massocco, di cosa si occupa Agenda? Agenda si occupa di dare informazioni alle famiglie, nonché sviluppare dei percorsi di formazione per le stesse, oltre a mettere in campo progetti e attività dedicate alle persone con disabilità. Vicepresidente Scebba, autonomia è il dopo di noi. State lavorando per rendere la vita più agevole e dignitosa delle persone con disabilità. In che modo? Lavoriamo in questa direzione promuovendo progetti volti a favorire quelle che sono migliori competenze per quanto riguarda l'autonomia dei nostri ragazzi, una migliore inclusione e una migliore vita per quanto riguarda sempre i nostri ragazzi. Alcuni progetti che abbiamo in atto sono autonomia possibile, abbiamo un laboratorio del feltro, abbiamo un progetto Mani che fanno crescere, è un progetto di orticoltura, abbiamo un progetto che prevede le vacanze per i nostri ragazzi. Tutto questo per avere come finalità quello di migliorare le capacità e le competenze dei nostri ragazzi in visione di una prospettiva di vita indipendente sempre futura. Un amico per volare è il titolo che abbiamo dato a questo spazio, ma cosa significa per agenda? Per quanto riguarda i nostri ragazzi, uno dei principali bisogni che hanno i nostri ragazzi è quello di superare il discorso della solitudine. La solitudine perché i nostri ragazzi spesso, specialmente quando escono fuori dal circuito scolastico, si trovano da soli oppure in compagnia degli adulti. Allora a tal proposito si è pensato in un progetto che è intitolato la banca del tempo sociale, legami oltre differenze, finanziato dall'amministrazione provinciale di Biella e dall'impresa sociale Bambini delle Fate, il quale progetto prevede incontri settimanali di ragazzi con disabilità e senza disabilità, incontri che prevedono attività di tipo ludico-recreative, volte a favorire quello che è un discorso di un legame di amicizia duraturo, poi si spera nel tempo. Di recente avete organizzato un concerto a Biella con il cantante Povia. Come mai la scelta di questo cantante come testimonial della vostra associazione? La scelta, la selezione del cantante è dovuta al fatto che sappiamo che è un cantautore molto sensibile ai temi delle persone con fragilità, quindi i bambini, gli anziani, le persone disabili. Da qui anche il suo repertorio di canzoni che chiaramente sono volte sempre come contenuti a questo tipo di persone. A questo punto il motivo per cui si è scelto questo cantante è proprio quello di renderlo testimonial della nostra associazione. Gli abbiamo fatto fare un concerto a Biella con il patrocinio del Comune di Biella e devo ringraziare per questo l'assessore Gabriella Bessone e l'assessora Isabella Scaramuzzi che ci hanno dato una mano per realizzare questo concerto. In chiusura, Presidente Massocco, cosa manca ancora alla vostra associazione? Abbiamo pochi secondi. Mancherebbe innanzitutto una sede dove poter portare avanti i progetti per i nostri ragazzi. L'abbiamo detto in televisione, manca una sede per agenda nel territorio biellese. Grazie per essere stati con noi. Un cordiale saluto da Davide Rigallo, segretario della Federazione Regionale Piemontese dell'AICRE. L'AICRE è un'associazione di enti locali di cui fanno parte 200 comuni piemontesi più il Consiglio regionale del Piemonte. Il compito dell'AICRE è quello di avvicinare i comuni e gli enti locali in generale alla dimensione europea. Genius Loci, governare i territori come capacità di creare relazioni è un'attività che proponiamo gratuitamente agli amministratori locali del Piemonte per sviluppare competenze, capacità e esperienze per creare o favorire le relazioni sulle comunità e sui territori amministrati. Si tratta di un percorso cofinanziato dalla Fondazione Cassa Risparmio di Torino, sostenuta dalla città di Settimo Torinese in collaborazione con l'associazione preziosa ETS, collaboratorio di politiche dell'Università di Torino. Il corso si articola in una serie di moduli che tendono a sviluppare competenze nella valutazione delle politiche pubbliche, nella democrazia partecipata, nella progettazione europea e nell'analisi psicologica dei comportamenti effetto degli interventi pubblici sulle popolazioni. Bentrovati, Maria Piano, Vice-Segretaria AICRE Piemonte. Il corso di Geniolo Sloci si è avviato nella primavera, durante i mesi di aprile e maggio e i moduli successivi riprenderanno entro l'autunno, a partire da settembre. Ogni modulo vede articolato in due fasi, una prima fase in cui è prevista una docenza introduttiva teorica e una seconda fase in cui è previsto invece due workshop in cui i partecipanti possono sperimentare e applicarsi quindi in quelli che sono appunto stati i metodi proposti. Tutti i moduli si svolgeranno di sabato. La parte di docenza si svolgerà presso la Biblioteca Archimede di Settimo Torinese, mentre la parte appunto dei workshop si svolgerà presso il Centro Innovazione Sociale di OpenIncet Torino. I moduli partiranno appunto a settembre, il secondo modulo di settembre vedrà la professoressa Rosalba La Grotteria insieme al dottor Stefano Chicco rispetto appunto al programma sulla progettazione europea. Il secondo modulo invece un ottobre vedrà la professoressa Stefania Ravazzi che invece tratterà il tema della democrazia partecipata. Il terzo modulo invece vedrà il professor Barbero che tratterà dell'analisi psicologica per quanto riguarda la prima parte della docenza. La seconda parte invece dei workshop saranno tenuti dalla psicologa Stefania Barzon. A dicembre si terrà invece l'evento conclusivo in cui verrà presentato il working paper con tutti i risultati appunto del corso e di questa progettazione. Desideriamo ringraziare la fondazione CRT per il sostegno alla realizzazione di questa iniziativa, la biblioteca multimediale Archimede di Settimo Torinese e il comune di Settimo Torinese. Un ringraziamento anche alla fondazione Brodolini per la gestione degli spazi offerti per i workshop e un ringraziamento rapido ai nostri docenti del comitato scientifico Marco Sisti, Stefano Chicco, Stefania Ravazzi, Samuele Poi e Stefania Barzon. Buongiorno, sono un volontario dell'Associazione Amici di Palazzo Reale, un'associazione fondata nel 1994 da un gruppo di persone appassionate d'arte e di storia sabauda. L'associazione ad oggi conta più di 300 iscritti, di cui una sessantina volontari, volontari che dal 1994 al 2021 hanno condotto una serie di visite guidate gratuite all'interno delle sale del Palazzo Reale di Torino e dal 2022 invece si dividono tra Villa della Regina e questo magnifico palazzo, Palazzo Chiablese, una delle molte residenze sabauda sparse sul territorio della nostra regione. Nel corso di questi 30 anni l'associazione ha anche promosso e finanziato tutta una serie di restauri che comprendono opere pittoriche, opere in tessuto, opere di ebanisteria. Tra queste vorrei citarvi il restauro del modellino ligno, riproducente quelle a che sarebbe dovuta essere la nuova facciata del Palazzo Reale di Torino. Il modellino fu eseguito dall'ebanista Gabriele Capello, detto il Moncalvo, nei primi anni 60 dell'Ottocento. L'opera era molto rovinata a causa dell'azione degli insetti xilofagi e così l'associazione nel 2021 con propri fondi ne ha finanziato il restauro. Parlando di ebanisteria, non possono mostrarvi questo capolavoro, un'opera di Pietro Piffetti, probabilmente il più grande ebanista che abbia mai lavorato per casa Savoia e uno dei più grandi a livello europeo. Il mobile venne realizzato negli anni 60 del 700 proprio per Palazzo Chiablese. Piffetti utilizzò legni pregiati, avorio, scaglie di madreperla, però il mobile alla fine della seconda guerra mondiale venne esportato fuori dal territorio nazionale, rimase per molti anni in collezioni private estere e questa esportazione però venne ritenuta illegale da parte delle autorità italiane e pertanto nel 2018 i carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale lo hanno recuperato, dato in consegna alla soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Torino, che ha provveduto a restaurarlo e poi lo ha ricollocato qui, in quella che era la sua antica posizione a partire almeno dagli anni 80 dell'Ottocento. L'associazione ha anche curato restauri di opere pittoriche e a questo proposito vi ricordo il restauro del 2013 della tela presente nel soffitto della Sala del Trono di Palazzo Reale, che rappresenta il trionfo della pace, una tela dipinta dal pittore Fiammingo Iammiel negli anni 60 del 1600, oppure la volta della cosiddetta Sala dei giochi olimpici, decorata dal pittore napoletano Francesco De Mura nei primi anni 40 del Settecento. Purtroppo la volta, dipinta d'olio, risultava molto compromessa e così l'associazione nel 2018, di propria iniziativa e con propri fondi, ne ha curato il restauro. Del medesimo pittore Francesco De Mura si conservavano qui a Palazzo Chiablese quattro sovrapporte che rappresentavano i quattro elementi. Le sovrapporte erano collocate in quella che era l'antica camera da letto della duchessa del Chiablese, che però durante la Seconda Guerra Mondiale venne bombardata. Crollò il soffitto con gli stucchi dorati e tutto ciò che c'era all'interno andò bruciato a causa delle bombe incendiare. Però le quattro sovrapporte si salvarono perché tolte prima dei bombardamenti, ma alla fine della Seconda Guerra Mondiale vennero vendute sul mercato antiquario e per molti anni non si sape più nulla, sino a quando, all'inizio degli anni 2000, la regione Piemonte è riuscita ad acquistarne una, che è quella che vedete proprio qui dietro alle mie spalle, il dipinto che rappresenta l'allegoria dell'aria, con un giunone su un carro trainato da due pavoni. La nostra speranza è che prima o poi si riescano a recuperare le altre tre sovrapporte e ricomporre la serie completa che era stata realizzata proprio per il Palazzo Chiablese negli anni Sessanta del Settecento. A conclusione di questo video non posso far altro che invitarvi a contattare la nostra associazione per prenotare una visita guidata gratuita all'interno di questo magnifico palazzo, Palazzo Chiablese, un palazzo sconosciuto ai più, anche agli stessi cittadini torinesi, che però desta sempre meraviglia in tutti coloro che lo vengono a visitare. Un palazzo tra l'altro che ci racconta molto di cos'è stata la committenza artistica Sabauda nel corso del Settecento e poi ci parla di coloro che qui vi hanno vissuto, a cominciare dai duchi del Chiablese fino a Re Carlo Fenice che qui vi morì nel 1831 e dalla regina Margherita che invece qui vi nacque nel 1851 fino agli ultimi proprietari, i duchi di Genova, che nel 1939 decisero di vendere il palazzo allo Stato italiano. Vi aspettiamo! Buongiorno, la musica è protagonista di questa puntata per la precisione l'arpa e ne parliamo con un ospite, Eleonora Perolini, buongiorno, benvenuta, biellese, diplomata ad ARPA al Conservatorio Verdi di Milano e presidente dell'Associazione Università Popolare dell'Alto Monferrato. Sei una pioniera di questa associazione che hai creato riguardo l'ARPA, ma come è iniziata la tua carriera e perché hai creato questa associazione? Iniziata piccolissima, a Biella appunto, e poi dopo aver seguito la carriera concertistica mi sono dedicata a tutto quello che è l'ARPA in tutto il suo mondo, un mondo speciale, forse solo questo strumento può permettersi di vantare la particolarità di poter essere usato anche in terapia. Infatti sono fondatrice dell'ARPA terapia in Italia, nata proprio vent'anni fa. E a proposito di terapia, adesso guardiamo delle immagini bellissime, si commentano da sole. Percorrendo la tua feconda attività ci si accorge ogni volta di un'avventura sempre diversa, nuovo orizzonte sonoro. Cosa ti spinge ad essere sempre all'avanguardia e con questo spirito innovatore che forse è in te, è una cosa innata? Sì, sicuramente bisogna ricercare sempre, bisogna usare la musica per il bello, bisogna portarla in mezzo a coloro che non hanno la possibilità di avvicinarsi. Infatti l'ARPA, abbiamo visto che in strutture con gli anziani, in strutture molto importanti dove ci sono persone non cognitive, con l'Alzheimer, siamo riusciti a creare dei momenti dove la musica ha fatto da collante sia come integratore alle terapie, sia proprio come momento piacevole di benessere. E questo è molto stimolante e siamo alla ricerca di tanti giovani che si avvicinino a queste attività che sono naturali, che non prevedono l'uso di altri mezzi. Come prevedi il futuro di questo strumento particolarissimo? Non è facile, non è facile perché la società cambia. Io quando ho studiato l'arpista aveva tutto un altro ruolo, non era per esempio il fatto di creare eventi, di creare manifestazioni come facciamo noi con Arpademia, di creare progetti, non era concepibile. L'arpista doveva suonare basta e se faceva altre cose non era considerata una professionista. Oggi le cose sono cambiate, grazie al cielo i giovani sono molto più intraprendenti, io vedo mia figlia è molto più multitasking possiamo dire, si adatta a tutto e quindi io mi auguro che in questo non ci sia più il fatto suoni l'arpa celtica, suoni l'arpa classica, suoni l'arpa più piccola, più grande. No, deve essere una cosa che uno quando suona, suona, suona bene. e cerca di fare delle belle cose. Io prego per questo. Chi si vuole approcciare all'arpa oggi, un consiglio che puoi dare? Allora, un consiglio è di farlo il prima possibile. Dai quattro anni ci si avvicina, ci si avvicina con la memoria, ci si avvicina col gioco, non è più come una volta, quindi avvicinatevi in fretta e soprattutto con i vostri genitori, che è una cosa bellissima. Allora possiamo dire evviva l'arpa, evviva Eleonora Perolini. Grazie. I programmi di Rai3 riprendono ora a diffusione nazionale. Buona visione. Grazie. 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 Grazie.